All'Arquata del Tronto si contano i giorni in vista del completo smantellamento delle quattro tendopoli consegnate intanto all'amministrazione comunale il ricavato dell'evento scossa da mare organizzato da Etv Mar che è Ancona Today. Quasi 400 milioni di euro sottratti all'erario, 87 persone denunciate, max inchiesta della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno nel settore del commercio di prodotti informatici. O si riprende l'attività lavorativa o si bonifica una terza via non esiste, lo rivadisce l'assessore al lavoro Loretta Bravi, oggi assemblea dei lavoratori che domattina si ritroveranno per un presidio a Macerata. Con 102 mila anziani che nelle Marche vivono oggi soli, il 13% in più rispetto all'anno precedente servono politiche per assicurare servizi e valorizzare il ruolo all'interno della società, a sottolinearlo è la Feder Pensionati col diretti Marche. Recupero di campionato per i bianconeri che torneranno al Del Duca anche per dimenticare e riscattare il capo di sabato scorso a Pisa. Buonasera da ETG Marche, bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. In apertura di questa edizione un'ampia pagina dedicata al sisma. Un mese dopo la scossa del 24 agosto siamo tornati nella frazione di Pescara del Tronto, lì dove sorgeva la frazione di Pescara del Tronto e lì dove il comitato sorto spontaneamente dopo quella scossa di un mese fa vuole che Pescara torni e sia ricostruita. Tra le tante storie anche quella di Antonio, il macellaio della frazione di Pescara. Sentiamo nel servizio di Linda Cittadini. Un bel paese tranquillo che ci si poteva venire rilassasse, non c'erano rumori molesti, si stava bene. Forse non lo capivamo prima perché ce ne avevamo troppo, adesso lo apprezziamo molto di più. Antonio Filotei racconta arquata prima delle 3.36 del 24 agosto quando da Ascoli e da Roma la gente saliva su per i tornanti a comprare la carne nella sua macelleria. Il negozio è rimasto in piedi, accanto le case sventrate in piena zona rossa dove si può accedere con il caschetto in testa e accompagnati dai vigili del fuoco. Antonio va ogni giorno per il bestiame, ha paura per i lupi e i cinghiali di notte. Vorrebbe ripartire ma non è così semplice. Sto provando a ripartire, per conto mio ho già rimediato un container, un prefabbricato in legno, messo a disposizione da col diretti di Ascoli, però la burocrazia, i vari permessi eccetera eccetera sono 15 giorni che sto buono, sto fermo. Ho fatto la richiesta per un 90 metri quadri di terreno al consorzio idrico, qui giù che c'è dei lotti, giù la zona industriale per poter trasportare l'azienda mia per poter incominciare e ancora non mi hanno dato risposta e non so niente. I cittadini della frazione rasa al suolo hanno creato un'associazione, circa 250 persone tra residenti e proprietari di seconde case. La priorità dicono è mantenere alta l'attenzione e vigilare sulla ricostruzione, insomma rifare il paese. Se facciano le cose fatte bene che non ci sia speculazione da parte degli avvoltoi che ci sono in giro e maggiormente che si possa ricostruire come chiediamo noi. Non abbiamo la più palle idea perché dobbiamo invece prima il parere dei geologi, il geologico non ci dice quello che si può fare, l'ingegnere non ci dice quello che si può fare, non è che noi andiamo avanti a braccio. Forse Pescara non verrà ricostruita? No, io mi auguro che verrà ricostruita proprio qua. Qui? Non proprio qui, però nelle immediate vicinanze che non si perde l'identità del paese, tutto lì. Avreste paura di ritornare dopo quello che è successo qui in questa zona? No, se uno si fa vincere dalla paura è la fine, bisogna sempre andare avanti. Se l'uomo non ci avesse avuto paura non si sarebbe scoperto neanche il fuoco. Che percezione ha dopo un mese? Peggio del primo giorno perché adesso è subentrata la consapevolezza di quello che è successo, stiamo rendendo conto di quello che è successo. Perché nei primi giorni c'è stata soltanto tanta confusione e tanto dispiacere che non si può descrivere, inerrabile proprio. Però bisogna andare avanti. Non ci aspettiamo quello che ci meritiamo, purtroppo non siamo noi che l'abbiamo cercato. Purtroppo quello che ci meritavamo, calcolando che un paese che ci sono stati 47 morti, rasa al suolo, eccetera, eccetera, un po' più poco più di risalto di quello che ci hanno dato fino adesso. Non è che noi chiediamo la luna, quello che ci aspetta va, quello che ci aspetta tutto là. Intanto oggi è stato consegnato all'amministrazione comunale di Arquata del Tronto il ricavato dell'evento Scossa da Mare, organizzato da Etv Marche e da Ancona Today. Vediamo. Da Ancona ad Arquata del Tronto la Scossa da Mare è arrivata. Consegnati nelle mani del vice sindaco Michele Franchi i 1500 euro raccolti durante l'evento al Porto Antico di Ancona in occasione della Festa del Mare. Etv Marche e il portale Ancona Today insieme danno seguito all'impegno preso dal palco del Porto. Continuare a tenere alta l'attenzione con il lavoro giornalistico ma soprattutto far arrivare a destinazione le donazioni raccolte durante la serata. Io ringrazio di cuore tutti gli anconetani che hanno contribuito a questo gesto, li ringrazio proprio di cuore veramente a nome di tutta la popolazione. Grazie di cuore perché una raccolta per il Comune d'Arquata è un ottimo segnale della vostra vicinanza che ci siete stati vicini dal primo giorno, che comunque i nostri concittadini marchigianni sono sempre stati al nostro fianco quindi questo per noi è un forte segnale di speranza per ripartire e per non lasciarci soli. Siete qui e sarete qui sempre. Tanti gli slanci di solidarietà per Arquata soprattutto in vista della ricostruzione ma il timore è che ora si finisca in ombra. Sono anche tante organizzazioni che hanno raccolto che verranno nei prossimi giorni a portarlo. Molti vogliono raccogliere per la scuola e per i futuri progetti quindi molti arriveranno dopo con la ricostruzione in senso stretto. Però momentaneamente diciamo che c'è una raccolta fondi che va bene. Diciamo che purtroppo non è una guerra tra poveri, Amatrice sta facocitando molto raccolta fondi ma questo non è una pecca, è giusto anche che sia così, hanno tanti morti ma anche perché è più conosciuta quindi la gente ovviamente va dove c'è più risalto, molto meno. Infatti faccio un appello a tutti quanti che il terremoto, sì è giusto che sia da Amatrice e da Cumoli ma è anche il terremoto Arquata perché 51 morti su 1200 persone sono tanti e avere la maggior parte della popolazione comunque che è stata fuori dalle tende e comunque è andata in contributo autonomo di sistemazione a San Benedetto, Chiascoli e chi nelle seconde case del posto ti fa capire. Arquata che conta però anche i giorni in vista del completo smantellamento delle tendopoli che sono state allestite dopo la scossa del 24 agosto. Pretare, una delle frazioni di Arquata del Tronto. Nella tenda mensa il pranzo è finito, è il momento del caffè. Qui sono circa 20 le persone che dormono ancora in tenda come in altri campi del comune Ascolano, 80 persone in totale, una sessantina nel vicino comune di Montegallo. Tra le case di stoffa azzurre si tossisce l'umidità di notte, si insinua sotto le coperte e appesantisce il respiro. La tendopoli di Borgo sta per essere smantellata. In settimana, fa sapere il comune, dovrebbero essere strette le ultime convenzioni con hotelle strutture ricettive per affrontare l'inverno in modo adeguato. Anche a pretare, come a piedi lama, sono rimasti in pochi. Alcuni attendono le verifiche in casa per valutare l'agibilità e dunque un possibile ritorno. Altri si sono sistemati in delle roulotte vicino al campo. C'è chi valuta la soluzione del contributo autonomo di sistemazione, ovvero in abitazioni in affitto, ad Ascoli o nei dintorni. 200 euro a persona, con maggiorazione per diversamente abili e over 65, fino ad un massimo di 600 euro a famiglia. Ma per chi con il terremoto ha perso anche il lavoro, c'è il timore di trovarsi in difficoltà a far quadrare i conti. Che mio marito c'è il laboratorio qua, fa valename, ce l'abbiamo 30 capre, ce l'abbiamo un cane e bambina va a scuola qua giù a Borgo. Come facciamo a spostarci da qua? Cerchiamo un attimino altra sistemazione, per inverno più di tutto. Dopo devono arrivare cassette di legno a primavera, dopo ci andiamo dentro cassette di legno. Comune non è offerto, a persona 200 euro e possiamo andarci via, o prenderci una casa in affitto o albergo. Se prendi una casa in affitto da 350-400 euro, dopo devi pagare luce, l'acqua, il gas, mangiare. Che non c'è lavoro, come va a vivere? Intanto la giunta delle Marche ha attivato un fondo di garanzia per favorire la ripresa delle attività economiche nelle zone del sisma. Le aziende interessate potranno accedere ad un fondo preesistente per le imprese colpite da calamità naturali. 1.830.000 euro verrà destinato alle garanzie di primo grado a favore degli insediamenti produttivi, commerciali turistici delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allo scopo di ricostruire le scorte e ripristinare l'agibilità dei laboratori, dei negozi e eventualmente anche degli alberghi. La pagina della cronaca, con un incidente con tre feriti nella notte lungo alla 14 fra i caselli di Montemarciano e Senigalli a causa di un auto articolato carico di frutta che ha tamponato violentemente un autofurgone. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti trasportati negli ospedali di Ancona e Senigalli e messi in sicurezza i mezzi coinvolti. Il traffico ha subito lievi rallentamenti. Un altro incidente invece in quella che ormai da tempo è una delle zone più pericolose dell'intera città a Senigalli. I vigili del fuoco alle 8.20 di questa mattina sono intervenuti nella zona del Cianin per un incidente. Per caso in fase di accertamento un autofurgone ha tamponato violentemente una vettura. Nell'impatto il conducente della stessa è rimasto ferito. Dopo le prime cure sul posto è stato portato al pronto soccorso di Senigalli. I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza i mezzi coinvolti e prestato assistenza al recupero dei due mezzi incidentati. Maxi operazione invece da parte della Guardia di Finanza ad Ascoli Piceno. Una frode nel settore del commercio di prodotti informatici. 400 milioni di euro, 396 per l'esattezza sottratti al fisco, 87 persone denunciate, 78 società coinvolte in tutta Europa, dall'Italia alla Germania, alla Slovenia fino alla Danimarca e Cipro per accitare alcuni paesi. È il bilancio dell'inchiesta Fast Print della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno. L'indagine ha preso le mosse da una partita di cartucce e toner che oltre a essere posti in vendita a prezzi concorrenziali hanno evidenziato differenze nei contenitori di plastica degli inchiostri riconosciuti come contraffatti. Dall'esecuzione di due verifiche fiscali nei confronti di altrettante imprese ascolane si è risaliti alle società che risultavano aver solo cartolarmente rifornito le cartucce e i toner di una nota marca in una seconda fase alle società di tutta la filiera dedita alla commercializzazione nell'intero territorio nazionale delle cartucce e dei toner contraffatti. Si è quindi ricostruito il filo delle operazioni necessarie ad evadere IRAP e IVA attraverso il meccanismo delle frodi carosello, ovvero l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La pericolosità del fenomeno, oltre all'immediato danno ricato l'erario, riguarda anche la sleale concorrenza da parte delle imprese coinvolte nei confronti degli imprenditori onesti. Praticare un prezzo più basso grazie alla frode, si legge in una nota della Guardia di Finanza di Ascoli, consente infatti di attrarre maggiori clienti come anche di ottenere risultati vantaggiosi a discapito delle imprese sane nell'aggiudicazione di appalti per fornitura nella pubblica amministrazione. Parliamo ora di lavoro con l'avvertenza ex sacci. Ieri il mancato accordo tra l'azienda e la Regione Marche, che oggi però invia un ultimatum di fatto alla Cementir, ovvero o ripresa dell'attività lavorativa oppure la bonifica. Nel pomeriggio assemblea dei lavoratori, domani gli stessi si ritroveranno sotto la prefettura di Macerata per un presidio. O si riprende l'attività lavorativa o si bonifica. Una terza via non esiste. Dopo il mancato accordo, l'assessore al lavoro Loretta Bravi parla a nome della Regione, che ha ufficialmente chiesto alla Cementir Sacci di chiarire il futuro dello stabilimento di Castel Raimondo. La Bravi fa riferimento alla dichiarazione dell'azienda, secondo cui lo stabilimento di Castel Raimondo risulta strutturalmente eccedente rispetto alle strategie aziendali, tanto che da lunedì, se non dovessero esserci delle novità, scatterebbero i licenziamenti per i 71 attuali dipendenti. Oggi assemblea dei lavoratori, che domani si ritroveranno invece per un presidio sotto la prefettura di Macerata. Il futuro mi sembra abbastanza chiaro, è delineato anche dalle dichiarazioni della Regione per voce dell'assessore al lavoro Loretta Bravi, che ha indicato esplicitamente l'azienda, con noi testimoni, del fatto che o ci sarà una ripresa produttiva, i tempi da stabilire, oppure la bonifica del sito. È notizia odierna che la Regione ha dato seguito a questa dichiarazione e ha mandato la missiva dove pare ci sia l'obbligo da parte di Cementir, a seconda di ciò che i tecnici della Regione dicono, alla bonifica immediata del sito, se questa è la decisione, cioè il mancato accordo e quindi i 71 lavoratori di questa cementeria che vanno a casa. Il mancato accordo è scaturito dalla posizione dell'azienda assolutamente intransigente, nonostante la disponibilità della Regione a concedere un periodo di cassa integrazione in deroga per consentire appunto di proseguire il confronto, l'azienda si è dimostrata chiusa a qualsiasi nostra richiesta, anche alla più banale richiesta di proseguire il confronto per almeno altri 15 giorni, di darci più tempo. Quindi di fronte a una chiusura netta dell'azienda, noi e la RSU avevamo il mandato dall'Assemblea dei Lavoratori di non firmare l'accordo e quindi di chiudere la procedura di mobilità con un mancato accordo e questo abbiamo fatto. È l'unica vertenza nella Regione dove probabilmente c'era una parte diretta della Regione proprio in persona che poteva fare forse qualcosina di più, perché non era il discorso della concessione dei tre mesi di cassa integrazione sotto comunque la quale era stata disponibile a venirci incontro per poter avere tre mesi in più di trattativa. Dall'altra parte l'azienda forse non ha colto questa disponibilità della Regione o non si è affidata. La nomina di Cesare Carnaroli come nuovo presidente del Corecom, il Comitato per le Comunicazioni delle Marche ad affiancarlo, i vice Domenico Campogiani, terzo componente dell'organismo Emanuele Maffei. Oltre 400 studenti invece hanno partecipato questa mattina alla giornata della matricola all'Università di Macerata. Vediamo. Oltre 400 le matricole accolte al Teatro Aurorossi per l'inagibilità dell'Auditorium San Paolo. Giornata della matricola 2016. Appuntamento importante per il Rettore Luigi Lacchè. Sì, direi forse il più importante per un Ateneo, perché è il legame che ogni anno si rinnova con i ragazzi ed è un momento, credo, bello d'inizio. Poi seguiranno tante altre cose, però tutto parte da qui. Rispetto all'anno scorso c'è un aumento delle immatricolazioni come numeri complessivi e quindi anche delle iscrizioni. Il segnale è positivo ancora presto perché siamo a fine settembre, però in genere poi queste tendenze sono rispettate. Quindi penso che quest'anno l'Ateneo può ambire a avvicinarsi moltissimo alle 2.000 matricole, che per Macerata è un risultato straordinario. Da dove vieni? Da Ortona, Abruzzo. E che università vuoi frequentare qui a Macerata? Giurisprudenza. Perché hai scelto Macerata? Perché anche vedendo in giro mi sono informata, ho visto che era una delle migliori comunque in Italia, quindi se devo studiare lo devo fare bene. Puglia. Puglia. Taranto. Taranto. Ok. E a che università vi volete iscrivere? Siamo iscritti già a mediazione, cioè ci siamo appena immatricolati. Ah, ok. Come mai avete scelto Macerata? Perché tutti ce ne parlano bene e poi perché comunque è una città universitaria e quindi pensiamo sia il percorso migliore per noi. Da Lanciano in Abruzzo. E dove ti vuoi iscrivere a Macerata? A Scienze Politiche. Come mai Macerata? No, è una bella cittadina, non lo so, mi è piaciuta. Porto San Giorgio. Scienze della formazione e dell'educazione. Come mai hai scelto Macerata? Scelto Macerata sia per una comodità di trasporti, anche per la buona nomina della facoltà. Da Porto San Giorgio. Che corso hai scelto? Disprudenza. Macerata perché è andato meglio della città e poi comunque mi piace anche questo dipartimento di disprudenza che è considerato uno dei migliori in Italia. Ancona, Falconara. Che corso avete scelto? Mediazione linguistica. Mediazione linguistica. Ok. Come mai avete scelto Macerata? Perché non sono entrato a Trieste. Perché non sono entrato a Furlì. Con 102.000 anziani che nelle Marche vivono oggi soli il 13% in più rispetto all'anno precedente servono politiche per assicurare servizi e valorizzarne il ruolo all'interno della società. Sottolinearlo è la Federpensionati col diretti Marche. Secondo un'analisi col diretti su dati Istat 2015, le persone che vivono sole nella regione sono 190.000 di cui quasi la metà è rappresentata da Over 60, ben 102.000 contro i 90.000 del 2014. E in tema di nuove tecnologie, la team investe oltre un milione e mezzo di euro per le nuove reti a banda larga Macerata. Vediamo. Grazie ad un investimento di quasi un milione e mezzo di euro della team, Macerata è tra le prime città italiane a poter vantare infrastrutture telefoniche di nuova generazione che sono già pienamente operative al servizio di cittadini e imprese. Pensiamo che possa essere decisiva per una struttura appunto così reattiva e così fertile come quella di Macerata. Passeggiare per i palazzi di Macerata e vedere la storia che ci circonda e allo stesso tempo vedere che sotto c'è una struttura di tipo universitario, una struttura di tipo industriale, commerciale attiva ha fatto sì che noi abbiamo orientato i nostri investimenti qua trovando nella pubblica amministrazione i riferimenti adatti per essere anche veloci nel dare questi servizi. Il programma di copertura della città ha già interessato più di 15.000 unità immobiliari grazie alla posa di oltre 30 chilometri di cavi in fibra ottica che collegano i 75 armadi alle rispettive centrali. La collaborazione si è sviluppata nel prestare il passaggio per i cavi, per queste fibre ottiche quindi i cavi dotti sono stati utilizzati laddove era possibile anche strutture comunali. Poi la collaborazione c'è stata nell'organizzare gli interventi per la costruzione dei nuovi cavi dotti quindi dove si è dovuto rompere sulle strade o sui marciapiedi si è organizzati per essere il meno invasivi possibile e per fare un ripristino a regola d'arte. Tutto questo, continua l'assessore, va nella logica di uno sviluppo tecnologico della città in una prospettiva della cosiddetta città intelligente. A breve faremo interventi anche sulla pubblica illuminazione, per esempio pensare di mettere sulla pubblica illuminazione, sul palo della luce, un rilevatore del tasso di inquinamento piuttosto che una telecamera per la sicurezza o un'informazione per la mobilità prevede poi la trasmissione veloce di questi dati. Ecco, uno degli esempi in cui questa fibra è sicuramente un'opportunità in più. Stiamo sviluppando anche un progetto su macerata digitale, la possibilità per i cittadini di avere certificazioni, attestazioni o accesso agli atti del comune senza doversi spostare da casa, pure questo prevede un servizio adeguato. Noi ci fermiamo ora, ma solo per una breve pausa, tra pochissimo le notizie di sport. A tra poco. Ben trovati con le notizie di sport di Etg Mark in questa edizione che apriamo con il calcio perché è una giornata di recuperi per quello che riguarda la Serie B. In campo l'Ascoli nel recupero appunto contro il Cesena. Le formazioni ufficiali, quelle scelte da mister Aglietti, 4-3-3 per i bianconeri con l'anno in porta, Almice, Agostin, Mengoni, Mignanelli in difesa, Alberg, Bianchi e Cassata a centrocampo, Giadi, Caccia e Gatto. Invece il tridente offensivo Ascoli che cerca di dimenticare e di riscattare il KO di sabato scorso subito a Pisa e soprattutto un Ascoli che vuole vendicare quella sconfitta per 2-1 e riprendere un filo che era cominciato contro il Vicenza ormai una settimana fa. Avversario di turno, come detto, è il Cesena che si è schierato in maniera speculare anch'esso con il 4-3-3, Agazzi in porta, Balzano, Perticone, Ligi, Filippini in difesa, Coneschi, Avone, Cinelli a centrocampo, Ciano, Diurice, Garritano. Queste le scelte del mister Massimo Drago. Ampia pagina sulla Lega Pro. Cominciamo dall'Ancona che prova a ripartire dopo la vittoria con il Modena nonostante, come sempre, le problematiche della società che rimangono lì ancora irrisolte. Di questo ha parlato Davide Moi, difensore dell'Ancona, presente come ospite ieri sera, lunedì nel pallone. Purtroppo vorremmo pensare solamente a giocare a pallone. Invece a malincuore anche questi problemi la squadra viene risucchiata perché c'è ognuno i propri problemi, i più giovani magari vengono condizionati in maggior modo. Aspetta a noi più grandi, il mister, il capitano, cerca di schermare il più possibile, cerca di pensare all'allenamento e a dar tutto in settimana per arrivare preparati alla partita. Come dicevi tu è stata una settimana lunga, straziante. E nella quale vi siete anche isolati per necessità, cercando di stare il più lontano possibile da contatti esterni e poi alla fine andavano a rompere un po' le scatole. Sì, sì, perché tu hai detto che vorremmo pensare solamente a giocare e a dar tutto per questa maglia, però questi problemi ci sono e ne siamo consapevoli. Ci ha fatto molto piacere il fatto che è venuto un gruppo di tifosi in ritiro prima della partita dove ci hanno chiesto solo e esclusivamente di dar tutto e noi ne saremmo usciti tra gli applausi. Così è stato e è stata una gioia per tutti. Non è facile anche esprimersi al meglio quando succedono queste cose. Purtroppo è una cosa che non viene mai augurata a nessun calciatore o lavoratore in generale, a quella di non essere pagati. Noi ce la mettiamo tutta comunque. Il mister ci ha chiesto professionalità, essere uomini fino alla fine. Cerchiamo di andare tutti dalla stessa parte perché tanto solamente così potremmo uscirne fuori. Alle porte c'è una gara che se vogliamo può essere un po' una verifica di quello che è stato sabato. Sabato prossimo alle 14.30 con il Sant'Arcangelo. Non lo vedo un banco di prova così importante, nel senso che tanto superata pure questa ci sarà la prossima dove diremo la prossima è importante. Sarà un'altra prova. L'Ancona deve andare là, fa la propria partita. Cercano di anche in questa utilizzare la stessa intensità, la stessa cattiveria agonistica. Potremmo uscirne anche col bottino pieno da Sant'Arcangelo. Chi invece sta vivendo una settimana particolarmente avvincente è la San Benedettese, terza in classifica nel girone B. Rivelazione di questo campionato. Una partita da recuperare e soprattutto sabato a Riviera delle Palme l'arrivo del Parma corazzata del campionato. Sabato abbiamo sofferto. Sì, non dico sofferto ma c'è stato l'errore da parte nostra di non aver chiuso la gara. Però se andiamo a contare le occasioni di acolo che abbiamo avuto sabato ne contiamo almeno 7-8 ma di quelle clamorose. Una vittoria importante che ci dà fiducia, ci dà morale per affrontare la partita di sabato nel migliore dei modi. No, perché il Parma è una squadra attrezzata per vincere davanti a dei grossi giocatori e quindi se parliamo di Evacuo, di Calaiò e poi di Nocciolini che sta facendo benissimo questi sono giocatori che al primo errore ti puniscono. Quindi la concentrazione e l'attenzione sabato deve essere massimale e dobbiamo evitare quello che abbiamo fatto sabato a Forlì, cioè portare questi attaccanti dentro l'area di rigore perché questi sono attaccanti che dentro l'area di rigore ti fanno male. Il Parma, secondo me, verrà a fare la propria partita consapevole del fatto che davanti hanno dei giocatori importanti e quindi credo che troveremo una squadra che si giocherà. Non penso che faranno la partita tipo Fano, ecco, tipo il Fano che ha fatto contro di noi. E se abbiamo questi punti perché li abbiamo meritati? Quindi non sono sorpreso. Non è che quando inizio una stagione faccio la tabella e dico qui vingo, qui perdo e qui pareggio. Inizi la stagione e ti giochi la partita alla volta e se adesso abbiamo questi punti perché ce li siamo meritati? Però questo non ci deve far pensare che abbiamo raggiunto l'obiettivo e lo scopo che ci siamo prefissati. Dobbiamo vivere la giornata e pensare alla partita di sabato come una partita difficile però che ci possiamo tranquillamente giocare con le nostre armi. Da qui alla fine dovremmo incontrare tutti, quindi una alla volta cercheremo di preparare le partite nel migliore dei modi. Pensando solo una partita alla volta perché non è che possiamo fare una tabella a lunga gittata, a lunga scadenza. Si è fatto cena in precedenza ai problemi economici della società Ancona con dei problemi però anche la maceratese. Intanto la notizia di ieri, il deferimento da parte della Covizoc al Tribunale Nazionale per inadempienze estive che la Tardella aveva poi sistemato ma la Tardella che nel dopo partita di sabato, dopo la sconfitta in casa contro il Pordenone ha parlato anche della possibilità di cessione del club. È evidente che quando una curva fa un comunicato come quello che è stato fatto bisogna prenderne atto, prenderla come un'opinione che rispetto ma la prendo come un'opinione. francamente se dovessi guardare il mio passato e anche il mio presente, penso che con poca modestia io possa dire di essere stato forse il Presidente più vincente della storia della maceratese. È innegabile che l'Avvocato Nascimbeni abbia l'incarico di vendere la proprietà della maceratese perché adesso veramente saremmo ridicoli nel pensare e nel dire altre cose, se quando queste proposte che ci sono state fatte da più parti, ho sentito anche tante scemenze francamente, ho sentito anche voci che tendono solo a destabilizzare un ambiente che in questo momento non andrebbe destabilizzato ma che andrebbe in qualche modo confortato e non lo dico per me, lo dico per la squadra, lo dico per l'allenatore, lo dico per lo staff, lo dico per tutti. Il mio lavoro non è mai mancato. Se quando si presenteranno delle società, delle persone, io sarò felice di vendere. Penso che sarà un futuro con la maceratese perché amo la maceratese. Quindi vedo, spero di avere un futuro più sereno rispetto al passato perché ho vissuto angosce importanti, ho fatto fronte a tutte le incombenze economiche perché mi si dice vai a vendere perché se uno non è in grado di mantenere una società, ora francamente va tutto bene, questa è una società, è un SRL, è una società per azioni, deciderà la proprietà sul proprio futuro, immagino e spero. Detto questo non è detto mica che uno si debba sentire minorato o in difficoltà, non mi voglio trovare in difficoltà. Una storia bella che viene dalle marche però è quella di Federico Melchiorri, protagonista ieri sera nel posticipo di Serie A Cagliari-Sampdoria. Ha trovato il primo gol infatti nella massima serie, ci ha creduto in un pallone e ha sperato nell'errore che si è verificato del portiere Viviano della Samp. Gli occhi della tigre, la voglia di non mollare e di riprendersi, ciò che la sfortuna gli aveva tolto in pochi secondi, a costo di ripartire dal basso, da zero, calcare un prato di Serie A. A distanza di dieci anni dal suo esordio con il Siena non gli bastava e così Federico Melchiorri ha deciso di rendere indimenticabile l'ultimo capitolo della sua rinascita. Il minuto 88 di Cagliari-Sampdoria gli restituisce solo in parte ciò che la malattia gli aveva tolto. La sfortuna ha imparato bene il suo indirizzo e bussa spesso a casa sua, ma l'attaccante marchigiano ha capito come affrontarla. Non parliamo della rottura del crociato dello scorso aprile, solo l'ultimo degli ostacoli che Fede ha trovato lungo la sua risalita. Melchiorri ha vinto battaglie ben più importanti. Lui, che a 19 anni già esordiva in Serie A, a 24 ha dovuto ricominciare la sua scalata. La diagnosi, cavernoma venoso, poteva battere chiunque, figuriamoci un ragazzo che vedeva svanire il sogno di una vita, quello di diventare un grande calciatore. Federico Melchiorri ha lottato, non si è arreso, è ripartito dai campetti polverosi della seconda categoria marchigiana e adesso ha scalato l'ultimo gradino. Ha fatto gol dovunque, Giulianova, Tolentino, Macerata. Chi lo vede per la prima volta in un campo di calcio rimane a bocca aperta. Chi invece lo conosce da una vita, l'aveva capito subito che Federico sarebbe arrivato, che aveva una marcia in più. Tecnica, velocità, fisico, i paragoni che si sprecano. In molti, fatte e le dovute proporzioni, lo paragonano a Ibraimovic, altri a Edinson Cavani. Ma Melchiorri non è solamente un bomber. Federico è uno che gioca con il cuore tutte le partite, con la stessa determinazione che gli ha permesso di riprendersi la scena e far gol a Viviano. Vinci sgrassi come piatto preferito all'ex del Piero come idolo e la maceratese come squadra del cuore. E con quella maglia si è rilanciato al grande calcio, gol a grappoli in Serie D. Tant'è vero che l'estate successiva ci furono diverse chiamate da squadre di Lega Pro, ma lui rifiutò. Sarebbe andato via solo in caso di chiamata dalla B e così fu. Andò a Padova, poi Pescara e quindi Cagliari, nel post-gara di ieri sera contro la Sampa, stento, ha trattenuto le lacrime. Non riesco a descrivere l'emozione, ha detto. Solo essere entrato in campo oggi è un traguardo eccezionale. Il gol, un sogno, non sembra reale. Io ci ho sempre sperato. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino. Il volley ora con le amichevoli domani nel femminile. La Maicicero, dopo in occasione dell'inaugurazione del nuovo palazzetto di Piobbico, affronterà la formazione della Tum, Perugia, che la stagione prossima giocherà in serie B1 e che tenterà il salto di categoria. Si tratta dunque di un test importante per Mastro di Casa e compagni. Anche la Lardini Filottrano domani giocherà in amichevole a Bellari a test contro Bolzano. Tra l'altro domani è atteso l'arrivo di Lana Scuca a Filottrano, la schiacciatrice slovena reduce dalle qualificazioni ai campionati europei del 2017 che non le hanno regalato il pass per la rassegna continentale e dunque da giovedì la Scuca si unirà alle sue nuove compagni per iniziare l'avventura in maglia Lardini Filottrano. Noi invece siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto tutte le notizie le trovate pubblicate anche sul nostro sito www.etvmarque.it. Tutto invece per questa edizione di Attici Marche, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS